Grazie. Il mio compito è di esporre i temi di base sui quali lavoreremo in materia di giustizia. L'obiettivo deve essere quello di ottenere una giustizia giusta e tempestiva. Tempestiva perché una giustizia tardiva di per sé non è una giustizia giusta. E' giusta perché decisioni che vengono inquinate da interessi che non hanno a che vedere con il diritto e con l'equità distruggono esistenze, economia, imprese, la stessa fiducia nel futuro. Questo obiettivo si affronta, a nostro avviso, esaminando aspetti processuali e ordinamentali dell'amministrazione della giustizia. Gli aspetti processuali riguardano fondamentalmente la tempestività della giustizia. In ambito civile noi riteniamo che la babele dei riti che si è stratificata nei decenni debba essere superata con la riduzione di tutti i procedimenti a un unico rito. Che secondo noi è da conformare sul rito del lavoro, ovvero in un processo civile nel quale un contraddittorio scritto anticipato conduce ad un'unica udienza nella quale vengono sentiti i testimoni, vengono formulate le conclusioni delle parti, il giudice va in Camera di Consiglio e esce con una sentenza. Naturalmente questo richiede che nel processo così riformato i termini siano perentori per tutti, anche per i giudici, non solo per gli avvocati. Per cui se il codice dice che entro tot giorni si celebra la sentenza, quei giorni devono essere quei giorni. Che entro tot giorni si pronuncia una sentenza, quei giorni devono essere quei giorni. Perché solo in questo modo otterremo la tempestività della giustizia. Per quanto riguarda la giustizia penale, che è una nota estremamente dolente nel nostro ordinamento, tutti agitano lo spauracchio della prescrizione. Io porto all'attenzione di tutti il fatto che la grandissima parte dei processi penali si celebrano per reati in cui il termine della prescrizione, comprese le interruzioni, è di sette anni e mezzo. In questi sette anni e mezzo, quattro, forse cinque, vengono consumati durante le indagini preliminari. Cioè nel tempo che passa tra l'iscrizione della notizia di reato e la richiesta di rinvio giudizio. Cioè la gran parte dei tempi del processo penale è consumato sui tavoli delle procure della Repubblica. Questo avviene perché se il nostro ordinamento ha previsto una durata massima delle indagini preliminari, non ha previsto l'obbligo di esercitare l'azione penale o di chiedere l'archiviazione quando questo termine scade. Non solo, ma nell'interpretazione giurisprudenziale anche il termine per le indagini preliminari è stato dilatato attraverso artifici come l'iscrizione a orologeria di diverse notizie di reato o di diversi indagati. Questa materia va profondamente riformata. Se occorre, prevedendo dei termini più lunghi, in funzione della gravità dei reati che è determinata sulla base delle pene previste dal codice, ma una volta che abbiamo determinato qual è la durata massima delle indagini preliminari questo deve avere un inizio certo che è l'iscrizione della notizia di reato e una fine certa che è il termine che è stato fissato. Occorre informatizzare, come è già stato fatto nel processo civile, anche il processo penale in modo che attraverso l'informatizzazione quando scade quel termine il fascicolo va davanti a un giudice e non rimane a prendere polvere in qualche armadio della procura oltretutto introducendo una inammissibile discrezionalità nella scelta dei processi da mandare avanti o da tenere a dormire. Tutti i processi li devono andare davanti a un giudice. Questo introduce un aspetto collaterale della questione processuale ed è l'esame della funzione dell'udienza preliminare che rispetto alla previsione del codice Vassalli si è mostrata piuttosto deludente sui suoi risultati sia nei risultati di filtro sia in quelli deflattivi. Sono ormai troppi i tribunali nei quali si va a dibattimento perché la pena irrogata dal giudice dell'udienza preliminare nonostante lo sconto del rito premiale risulta più alta di quella che viene irrogata in dibattimento. E forse il corpo delle udienze preliminari dovrà essere devoluto agli stessi giudici del dibattimento o comunque superato perché nell'attuale formulazione evidentemente non funziona. I proscioglimenti all'udienza preliminare sono scomparsi non se ne vede più uno da molti anni e quindi quella funzione di filtro che doveva servire a rendere più veloci i processi e a esercitare una funzione deflattiva si è perduta. Occorrerà occuparsi anche del diritto dell'esecuzione perché oggi il nostro modo di eseguire le sentenze penali ha poco a che vedere con l'articolo 27 della Costituzione. non siamo in grado di differenziare la pericolosità dei condannati non siamo in grado di garantire la funzione rieducativa della pena attraverso un adeguato accesso alle misure alternative al carcere. Infine la questione ordinamentale significa prima di tutto il governo delle carriere dei magistrati. Noi siamo convinti da sempre che la carriera del magistrato giudicante e la carriera del magistrato requirente cioè di coloro che esercitano il giudizio e di coloro che esercitano l'accusa debbano essere separate. Chi decide nella sua vita di fare il pubblico ministero farà il pubblico ministero chi decide di fare il giudice farà il giudice altrimenti l'inquinamento della mentalità tra queste due carriere non si svolgerà in senso virtuoso come spesso sostengono i magistrati che ritengono che la carriera comune contamini con la logica con il principio con la cultura della giurisdizione la magistratura requirente ma finirà con l'inquinare come in effetti inquina la mentalità giurisdizionale con la cultura inquisitoria che è propria dei magistrati del pubblico ministero. Questo comporta fatalmente che il consiglio superiore della magistratura debba avere quantomeno due articolazioni in modo che vi sia la sezione della magistratura requirente che governa le carriere dei magistrati del pubblico ministero e la sezione della magistratura giudicante che governa le carriere dei magistrati della giudicante. Il tema è che oggi il consiglio superiore della magistratura è formato con un meccanismo che è pesantemente inquinato da una logica correntizia. È inutile che richiami le notizie che tutti quanti avete visto. Noi da sempre da tempo ci sono nostre proposte di legge depositate in Parlamento da anni riteniamo che in ultima analisi la formazione del CSM nella componente di due terzi fatta dai magistrati debba avvenire tramite sorteggio. Tramite sorteggio su di una base elettiva in modo che sia rispettato il principio elettivo ma con quel sistema di sorteggio che interviene interrompere il nesso tra la logica correntizia e il risultato finale. altrimenti noi avremo sempre una magistratura che è formata al 90% da persone eccellenti che proprio perché eccellenti si chiamano fuori da quel gioco sporco delle correnti che determina l'attribuzione degli incarichi direttivi e il restante 10% che dominerà la giustizia sia dal punto di vista dell'esercizio dell'azione penale sia dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia vera e propria facendo venir meno ancora una volta la soddisfazione di quel bisogno di giustizia giusta senza la quale non c'è libertà non c'è prosperità e non c'è futuro quindi questi sono i temi sui quali lavoreremo in questa giornata e mezza di lavori io mi sono limitato a denunciarveli a volo di uccello spero di essere stato sufficientemente chiaro non ho detto cose estranee alla nostra tradizione quindi tutti quanti avete sentito qualche cosa della quale abbiamo sempre parlato tutti sono lieto che abbiamo aderito ai referendum sulla giustizia perché tutto quello che serve a smuovere questo meccanismo incistato che rende la nostra giustizia ingiusta e intempestiva è utile e necessario grazie